Oggi Eva presenterà il manifesto Altra Europa, c'è bisogno di donne in Europa e perché? C'è assolutamente bisogno di donne come di uomini in Europa, metà della popolazione sono donne quindi è necessario che si condividano donne e uomini le politiche sia in Europa come in Italia però è indispensabile che quando le donne ci sono devono avere anche lo spazio, il potere di decidere e di porre prioritariamente i temi che riguardano le diseguaglianze di genere perché superare le diseguaglianze di genere, penso in termini di occupazione nel lavoro, penso in termini di carriera penso in termini di condivisione delle responsabilità genitoriali come per esempio avere il congedo di paternità cioè condividere ogni luogo nella responsabilità donne e uomini vuol dire superare tutti quei gap che fanno oggettivamente oggi, se non superati, tenere la nostra società con poca crescita poca sostenibilità nella crescita e secondo me anche una società che non convive positivamente Grazie a tutti Grazie a tutti.